I Cervelli, Myring Hiram Witt aveva un gran talento. Era un pensatore più profondo e più acuto di Parmenide. Proprio così, eppure dell'opera sua non c'era un solo europeo che ne parlasse. Già da vent'anni era riuscito, su lastre di vetro, a produrre da cellule animali, sotto l'influsso di un campo magnetico e per mezzo della rotazione meccanica, dei cervelli perfettamente formati. Dei cervelli capaci persino di pensare per conto proprio. Eppure questa notizia, benché fosse comparsa qua e là sui giornali, non aveva destato un vero e proprio interesse scientifico. Sibili cose non fanno per la nostra epoca. E poi, a che cosa potrebbero servire, nei paesi di lingua tedesca, dei cervelli che pensano per conto loro? Quando Hiram Witt era ancora giovane e ambizioso, aveva mandato quasi ogni settimana uno o due di quei cervelli prodotti con tanta fatica al grande istituto scientifico, perché li eseminassero ed essero un giudizio in merito. Ed era stato fatto ad onor del vero. Si erano messe quelle cose ancora calde in boccali di vetro. Ed era stato incaricato il celebre professore Aureliano Cartasciuga di tenere delle dotte conferenze sopra i misteri della natura di Heckel, naturalmente sotto il patrocinio di un'alta personalità, ma con risultati così poco consolanti che ci si era visti costretti a desistere, quasi subito, da ulteriori tentativi. Basti dire questo. Subito, all'inizio del corso, la maggior parte dei cervelli erano scoppiati con grande fracasso. Altri, dopo essere stati presi da due o tre attacchi di convulsioni violentissime, erano morti in modo incomprensibile, emanando un puzzo atroce. Proprio così. E uno persino, un robusto esemplare color salmone, girandosi con un balzo repentino, aveva spezzato il suo boccale di cristallo e si era arrampicato su per una parete. Anche il famoso chirurgo, il professor Scortica, aveva dato a proposito dei cervelli un giudizio molto favorevole. Se si trattasse almeno di appendici intestinali che si potessero tagliar via, aveva detto, ma dei cervelli, nei cervelli non si hanno casi di appendicite. E con ciò la nuova scoperta fu liquidata. Questo accadde parecchi anni fa. Hiram Witt, dopo allora, si era accontentato di fornire i cervelli alla trattoria Kempinski, col 50% di ribasso sui prezzi del macellaio, e provvedeva col ricavo di quelle vendite, a vivere e dalle spese di nuove scoperte. Un giorno era seduto come sempre nel suo studio, in via Tetereté numero 8, al terzo piano, immobile come una statua, davanti a un disco di cristallo che girava entro un sistema di assi di acciaio, così verticinosamente da non sembrare più che una vaga nebbia lucente. Aveva trascorso tutta la notte dedicandosi a quell'esperimento, osservando nel corso con gli occhi sbarrati. Quando le nascoste forze della natura vedono giunto il momento di lasciare il loro segreto in balia dell'uomo, sbarrano gelosamente, con mani invisibili, le porte della sua intelligenza al mondo esteriore, e rivelano in un bisbiglio appena percettibile all'anima sua la segreta origine del loro essere, il loro nome, e come si debbano invocare e come scongiurare. Esse odiano gli ascoltatori oziosi e i pensieri che induciano sulla soglia della conoscenza, e quindi non ammettono alcun intruso. In tali momenti il nostro mondo interno vigila in un'attesa strana, ed è come se il polso battesse ad un nuovo ritmo insolito. Quasi che il respiro dimenticasse la sua funzione, un'aria diversa da quella grossolana dell'atmosfera, un fluido ignoto, imponderabile, penetra per rigenerare il sangue. Così, dalla mezzanotte, Iranvit, senza respirare e quasi senza un battito del cuore, non pareva aver più coscienza di nulla, fuorché della sfera di vetro scintillante dinanzi a lui, un pensiero uscito dal suo corpo e che si era materializzato, che turbinava frusciando nel suo sistema di assi. L'eco prolungata dei suoni che passano di notte attraverso una città addormentata, come solitari gufi svolazzanti, non colpiva il suo orecchio e le braccia d'ombra del demone del sonno, che piano piano, fra le due e le cinque escono dal suolo, sgusciando furtivamente da dietro le porte degli armadi, alle spalle di coloro che sono svegli per soffocare col tocco morbido delle loro grandi mani nere, la scintilla della coscienza ancora destra, scivolavano su di lui senza far presa. Il mattino gli passò accanto ed il sole eclissò la debole luce della lampada, ma lui non se ne accorse. Non sentì sotto, sulla strada piena di vita, lo squillare della fanfara militare e il marciare dei soldati che attraversavano la città, scintillanti di bottoni dorati preceduti dal simbolico corno di bue. Solo quando furono alle dodici e lo scampanio assordante del mezzogiorno coprì lo strepito discorde della via, egli infilò finalmente la mano fra le ruote vibranti e fermò il congegno. In una concavità della lastra era ora visibile un piccolo cervello umano e su di esso, lo scienziato se ne convinse con un rapido sguardo, un piccolo inizio di nervi. Era il principio, il germe di un midollo spinale. Hiram Witt barcollò per l'emozione. Ecco, finalmente aveva trovato l'ultimo anello che mancava alla catena. Eppure le astratte quantità matematiche erano l'asse dell'universo. Nient'altro, nulla rimane, nessun centro al quale collegare la proprietà dei corpi, forché i numeri con l'equilibrio che producono e il loro rapporto scambievole è l'unica radice della vita. Visibilità, tatto, peso. Tutto svanisce, tutto svanisce come un errore di calcolo. Il cervello si comporta rispetto al midollo spinale come la gravitazione rispetto alla forza centrifuga. Ecco la definitiva soluzione dell'enigma. Proprio così, chi arriva a comprendere ciò e conosce le più elementari regole pratiche, può rendere questa teoria visibile e sensibile. Materiale, come dicono gli sciocchi. Hiram Witt teneva lo sguardo fisso innanzi a sé, tutto sconvolto. L'accavallarsi dei pensieri che infuriavano dentro di lui lo sconcertava. Bisognava che riuscisse a capire dov'era e perché mai provasse quella specie di fiero spavento, quando il suo sguardo cadeva sul corpo umano nudo, appoggiato di rimpetto sulla parete. Quel corpo che per venti interi anni aveva fatto crescere da piccole cellule come si coltiva un albero di gomma e che ora gli stava davanti come un essere pienamente sviluppato, ma senza coscienza. Hiram Witt rise di gusto. Un altro dei miei lavori inutili. A che serve dopo tutto fabbricare un corpo se posso sviluppare il cervello e il midollo spinale? A che mi serve un tale ciarpame? E come il cacciatore selvaggio infuria senza requie col suoi cani fantasma, così l'anima sua si perdeva in una ridda di pensieri disordinati, protesi verso un avvenire fantastico in cui egli avrebbe potuto far sparire dal regno dell'esistenza i corpi celesti. Un urrà di cento voci proveniente dalla stanza sottostante lacerò l'aria e Hiram Witt aprì in fretta la finestra e guardò giù. Un vagabondo con un berretto da soldato e un babbuino in uniforme da ufficiale erano lì su una carrozza e circondati da una folla entusiasta e da un semicerchio di guardie perdute in un'estasi rispettosa esaminavano la facciata della casa. Subito dopo cominciarono tutti e due ad arrampicarsi su per il parafulmine finché arrivarono al primo piano, poi ruppero i vetri ed entrarono dentro. Pochi minuti dopo scaraventavano dalla finestra abiti mobili ed alcune valigie, poi ricomparvero sul cornicione e continuarono la loro scalata fino al secondo piano dove si ripete lo stesso spettacolo. Hiram Witt comprese subito che cosa lo minacciava e si frugò in fretta nelle tasche per vedere se possedeva denaro o valori. Nello stesso istante la scimmia e il vagabondo si lanciavano già al di sopra della balaustra nella sua stanza. «Io sono», disse il vagabondo, «io sono». «Sì, sì, lo so, signor capitano, lei è quel briccone che ieri ha conquistato il municipio di Koepenik». Lo interruppe lo scienziato. Il vagabondo rimase solo per un attimo, senza parole, poi accennò con orgoglio al vario pinto sedere del babbuino e disse «Questo signore in uniforme è la mia giustificazione». «Vero, oggigiorno si tiene troppo conto del sedere», pensò Hiram Witt, e gli porse solo quattro franchi e cinquanta, una catena d'argento da orologio e tre denti d'oro. «Ecco tutto quello che posso fare per lei». Il vagabondo incartò con cura il bottino, se lo mise in tasca e gridò «Animale, sull'attenti!» E, mentre Hiram Witt si affrettava ad obbedire, il babbuino e il vagabondo, con un mirabile volteggio, si lanciarono fuori dalla finestra. Sotto, quando riapparve l'uniforme, si udì l'entusiastico currà delle guardie. Lo scienziato tornò a sedere tristemente al suo tavolo da lavoro. «Questo vuol dire che devo preparare in fretta sei cervelli per Kempinski, onde reintegrare quanto mi è stato rubato. Ma un momento! Mi pare che ne resti ancora uno, ieri!» E, tirato fuori di sotto il letto un piatto con un bel cervello vivo, lo poggiò sul tavolo. Poi mise in moto il disco di vetro e stava per riprendere il suo lavoro, quando fu bussato energicamente alla porta e nello stesso tempo un rombo sordo e pesante scosse la casa. Hiram Witt, arrabbiato, respinse la sedia. «Oggi non si riesce ad avere un minuto di pace!» esclamò. La porta si spalancò ed entrò nella stanza un ufficiale, seguito da alcuni soldati, a passo di carica. «E lei, il fabbricante di cervelli, Hiram Witt? Ehi, fermo! Le mani alla costura!» Hiram Witt ubbidì e si alzò, mosse le mani incerto per il corpo e poi, quasi colpito da un improvviso lampo di intelligenza, se le cacciò fra le gambe. L'ufficiale storse il muso. «Ehi, imbecille! Ti dà di volta il cervello? Mani alla costura!» Ho detto. «Mani alla costura!» «Pardon, i miei calzoni hanno la costura proprio di dentro. Io non sono un ufficiale della riserva. Non so di che costura intenda parlare!» rispose incerto lo scienziato. «Ma cosa desidera dunque da me?» aggiunse poi. «Il signor capitano del municipio era qui poco fa. O è lei il calzolaio di Köpenick?» Ma l'ufficiale lo interruppe. «Ecco le mie credenziali!» Hiram Witt lesse. «Carta di legittimazione!» Affermo con la presente, sulla mia parola d'onore ed ufficiale, che io sono il capitano Fritz Arraffa Nobile de Scrocconi. Firmato Fritz Arraffa Nobile de Scrocconi. Capit, reggimento delle guardie. E riconobbe a colpo d'occhio, dalla calligrafia, che lo scrivente si trovava al primo stadio della paralisi cerebrale. Fece un profondo inchino. Frattanto i colpi ritmici che scuotevano la casa si erano avvicinati sempre più ed infine un cannone sporse la bocca rotonda dalla porta. Ma era del tutto inutile perché lo scienziato non mostrava il minimo dubbio e quando poi sfuggì di tasca il capitano un biglietto, su quale era chiaramente leggibile una ricetta a base di solfato di zinco, il contegno di Hiram Witt dimostrò una convinzione sempre maggiore. «Beh, pasticcia cervelli Witt, età 60 anni, condizione individuo abitante in via Teteretè 8, lei è vent'anni fabbrica degli uomini artificiali, no?» lo interrogò l'ufficiale e elevatosi l'elmo lo posò sbadatamente sopra il cervello che stava sulla tavola. Lo scienziato si inchinò in silenzio. «Dove sono?» continuò a interrogarlo l'ufficiale. Il Ranvit indicò l'uomo nudo senza cervello appoggiato alla parete. «E' denunziato per espletare il servizio militare?» Lo scienziato stupito rispose di no. «Bestia! Non sai quali sono i tuoi doveri?» rugì il capitano e fece un cenno ai suoi soldati in seguito al quale essi cominciarono a vuotare la camera portando via le sedie, il letto, i vestiti, gli apparecchi e, in ultimo, anche l'uomo artificiale. «Non sarebbe meglio mettergli nella testa il cervello, dato che deve fare il servizio militare?» riflette Hiramvit rassegnato e, nonostante lo sprezzante diniego dell'ufficiale, alzò l'elmo dal piatto. Quello che si vide allora fu così straordinario e misterioso che lo scienziato lasciò cadere l'elmo dalle mani. Il cervello, che stava là sotto, non c'era più e al suo posto c'era, al suo posto c'era, sì, una bocca spalancata. Proprio così, una bocca spalancata. Una bocca storta, coi baffi piegati all'insù. Hiramvit fissava sbalordito il piatto. Una ridda selvaggia di pensieri si agitò nel suo cranio. Dunque, l'influsso ad un elmo era in grado di trasformare tanto rapidamente un cervello in una bocca. O la ragione era un'altra. Forse la punta metallica dell'elmo aveva avviato un rapidissimo processo di volatizzazione. Nello stesso modo, per esempio, in cui il parafulmine favorisce la scarica dell'elettricità. Forse era per questo che la polizia aveva una pallottola sulla punta dell'elmo per impedire quella volatizzazione. Ma no, perché allora se ne sarebbero pur dovute vedere le conseguenze. Il volgomastro di Kepenick, un babbuino, zero diviso zero da uno. Aiuto, aiuto, la pazzia, aiuto, sto perdendo la testa. Ed Hiramvit lanciò un urlo tremendo. Girò parecchie volte su se stesso e cadde lungo disteso con la faccia contro il pavimento. L'ufficiale, gli uomini di truppa e il cannone se ne erano andati da un pezzo e la casa era vuota. In un angolo stava accoccolato Hiramvit e con un sorriso ebete sulle labbra continuava a contare i suoi bottoni. Capitano Scroccone, calzolaio Feucht, calzolaio Feucht, capitano Scroccone, vero, falso, vero, falso, solfato di zinco, vero, trammollimento cerebrale, capitano Scroccone, calzolaio Feucht. Il poveretto fu infine rinchiuso in un manicomio, ma la sua pazzia non smise. Le tranquille domeniche lo si può ancora sentire cantare. Dalla mosa fino al me, e me, e dall'adice al belt, Germania, Germania, al di sopra tutto, tutto, al di sopra di tutto nel mondo.